ciao a tutti e bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial per realizzare il coprispalle che avete visto nella deprima iniziale abbiamo bisogno di 200 grammi del filato malabrigo rich color cioccolata numero 161 questo filato lo potete trovare sul sito web di filati romance di lisa davì è un filato molto morbido e molto particolare ed è lavorato a mano molto bella nella lavorazione per quanto riguarda la composizione è formato da 50 per cento merino e 50 per cento baby alpaca si lavora con l'uncinetto che va dal 5 al 6 io l'ho lavorato con l'uncinetto del 5 è la lavorazione veramente morbidissima il filo scivola benissimo sul sull'uncinetto per quanto riguarda i grammi sono 100 grammi e il filo è lungo 193 metri poi vi occorrono due segnapunti e delle decorazioni ho una spilla oppure io ho messo questo questa rosa di questo colore contrastante molto bello comunque per quanto riguarda detto ciò adesso possiamo partire con il tutorial per questo progetto non ci sono multipli ho voluto usare un punto semplice delle mezze maglie costa retro perché volevo valorizzare il filato infatti ho voluto usare questo punto perché nella lavorazione veniva bello tipo velutino è molto morbido per quanto riguarda il filato dimenticato di dirvi che vi arriva a casa sotto forma di matassina che poi io ho trasformato in gomitolo con l'uncinetto del 5 ho avviato 142 catenelle non ci sono multipli e quindi avvio le mie catenelle una volta fatte 142 catenelle faccio una catenella aggiuntiva per poter voltare quindi faccio un primo giro di solo maglie basse vado a fianco e faccio una maglia bassa quindi devo fare in ogni catenella sottostante una maglia bassa molto semplice vado a fianco una maglia bassa andate avanti in questo modo fino ad arrivare al termine del giro finito il giro di maglie basse adesso faccio una catenella giro il lavoro e vado questa è la catenella che abbiamo fatto vado subito a fianco e faccio prendo la costina più esterna e faccio una mezza maglia alta adesso metto il segno così non mi posso sbagliare ogni volta che arriviamo qui dobbiamo fare l'ultima mezza maglia alta e quindi il bordo ci viene più dritto filo sull'uncinetto qui ho la costina più esterna prendo la costina e faccio una mezza maglia alta filo sull'uncinetto vado a fianco la costina più esterna e vado avanti in questo modo fino a terminare il mio giro ho lavorato l'ultima mezza maglia alta sulla maglia bassa faccio come abbiamo fatto all'inizio quindi una catenella volto il lavoro a questo punto questa è la catenella giro in questo modo così vi faccio vedere bene questa è la catenella e questa è la prima mezza maglia alta invece di lavorare su tutte e due le costine devo prendere la costina più esterna e faccio la mia mezza maglia alta anche qui metto il segno per far venire i bordi belli dritti senza contare ogni volta le maglie perché così ci possiamo sbagliare facilmente e mangiarci l'ultimo punto filo sull'uncinetto giro in questo modo questa è la costina più esterna e faccio una mezza maglia alta e vado avanti con questo punto per i centimetri che noi vogliamo quindi vado avanti questa è la costina più esterna prendo il filo e faccio una mezza maglia alta andate avanti vi faccio vedere per l'ultima volta come iniziare e proseguire e poi andare avanti per i vostri centimetri sono arrivata dove ho messo il segno quindi ho fatto l'ultima mezza maglia alta e qui la penultima mezza maglia alta qui devo fare l'ultima mezza maglia alta filo sull'uncinetto sempre volto il lavoro in questo modo costina da dietro prendo il filo e faccio una mezza maglia alta tolgo il segno di qua e lo rimetto qui quindi giro il lavoro faccio prima la catenella giro il lavoro a questo punto o questa è la catenella qui ho la mezza maglia alta costina da dietro e continuo così metto di nuovo il segno vado a fianco prendo la costina più esterna e faccio mezza maglia alta vado a fianco costina esterna mezza maglia alta il punto è semplice molto bello da un bell'effetto è adatto anche ai principianti quindi proseguite in questo modo facendo con mettendo un segno ogni volta alla fine all'inizio vi troverete il bordo bello dritto andate avanti per i vostri centimetri io vi dico quanti centimetri ho fatto in tutto e come riferire il bordo ho continuato la lavorazione per circa 30 centimetri mi sono fermata quindi adesso devo finire il mio lavoro con un giro di maglie basse però sempre in costa retro come abbiamo iniziato il nostro lavoro quindi una volta che abbiamo finito con le mezze maglie alte faccio una catenella e rientro sempre come abbiamo fatto fino adesso però non faccio una mezza maglia alta ma una maglia bassa vado a fianco prendo il filo e faccio una maglia bassa vado a fianco prendo il filo e continuo così fino a terminare il lavoro una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo chiudere i nostri bordi laterali quindi andate avanti e ci vediamo al termine del giro una volta che abbiamo finito tutto quindi pieghiamo a metà piegando a metà abbiamo le due parti laterali quindi mettiamo uno sopra l'altro una parte sopra l'altro e adesso faccio una cucitura con maglie bassissime quindi con l'uncinetto entro da una parte e dall'altra attraverso le maglie e faccio le maglie bassissime non tiro molto altrimenti la cucitura viene molto tirata quindi vado attraverso le maglie da una parte e dall'altra prendo il filo e faccio una maglia bassissima e continuo così fino a terminare tutto il mio la mia cucitura ci vediamo al termine di tutta la cucitura finita la nostra cucitura dobbiamo nascondere i fili e adesso devo fare una striscia che poi chiuderò ad anello e metterò intorno al nostro al nostro lavoro e applicherò la nostra rosa comunque vi faccio vedere con l'uncinetto sempre del 5 è lo stesso filato faccio una catenella di 25 maglie quindi vado avanti fino a fare le 25 maglie fatte le mie catenelle adesso faccio una catenella per girare e lavoro tutta la mia striscia di maglie basse quindi devo lavorare tre giri di solo maglie basse non le lavoro in costa retro ma lavoro maglie basse non normali quindi andate avanti e vi faccio vedere il ritorno come iniziare e quindi poi dovete fare altri due giri ci vediamo al termine del giro ho finito il primo giro quindi giro il lavoro faccio una catenella e rientro prendendo tutte e due le asole questa volta e faccio una maglia bassa vado a fianco prendo tutte e due le asole e lavoro una maglia bassa quindi vado avanti in questo modo questo giro è un altro giro faccio tre giri perché poi mettendo la rosa mi piace l'effetto che si deve vedere solo la rosa andate avanti finite il tutto e chiudete ad anello vi faccio vedere come chiudere ad anello e applicare la rosa una volta che avete finito tutto prendete la rosa e trovate più o meno il punto a metà e poi perché poi dobbiamo chiudere ad anello e metterlo sul sul nostro lavoro come vedete molto carino quindi con l'uncinetto e il filo io faccio dei piccoli punti per sistemare bene la nostra rosellina io il tutorial della rosa non l'ho fatto però se volete fare se volete il tutorial di questa mia stessa rosa basta che me lo chiedete nei commenti e ve lo faccio e una volta che avete cucito bene il tutto bloccate bene mi raccomando vi faccio vedere come applicarlo sul nostro lavoro una volta che avete finito il tutto avete nascosto i fili avete posizionato la vostra rosellina dove volete dove ripeto ho voluto farla con la rosa perché mi piaceva di più anche usare queste sfumature di colore però voi volendo potete fare sempre la striscia se farla così oppure con maglie basse in costa retro e applicare una bella spilla chiudere e mettere una bella spilla questa rosellina con questo è anche bello si può usare anche facendo un braccialetto quindi si può fare più piccola e usare come decorazione per come accessorio allora una volta che avete fatto questo posizionato tutto adesso io piego in questo modo è qui ho la cucitura e quindi devo far passare il mio cuoco diciamo la mia striscia con la rosellina dietro e adesso devo fare una cucitura e poi ecco come viene quindi una cucitura semplice per bloccare il tutto e questo è il lavoro vi faccio vedere come cucire per quanto riguarda la cucitura io devo cucire soltanto la striscia perché non blocco il lavoro vicino al lavoro perché poi io la striscia me la sposto dove voglio quindi se la voglio al centro me la metto al centro se la voglio laterale me la metto laterale anche se posso spostare benissimo il lavoro però preferisco così per quanto riguarda la cucitura faccio delle piccole dei piccoli punti e nascondo bene i fili volendo voi potete fare una cucitura prendendo solo delle piccole parti quindi poi viene largo e il il lavoro viene così con poche pieghe oppure stringerlo molto e qui si vede bello l'effetto che danno queste piccole pieghe e qui viene largo comunque l'effetto l'avete visto indosso ed è veramente particolare detto ciò il mio tutorial finisce qua se vi è piaciuto mettete un like e se vi va iscrivetevi al mio canale mi raccomando lasciate dei commenti se volete la rosellina come tutorial e se vi va iscrivetevi anche al mio gruppo facebook che si chiama le creazioni di carola e le amiche di uncinetto dove siete libere di postare i vostri lavori ci vediamo a presto con altri video tutorial grazie e ciao